Sentite amici, io sono un cristiano che non faccio voci. Da Tarantella andava tanto e buono, ma qua suona sui super campioni. C'è gente che già suonava quando era in fascia e che suonava già prima ma nasce. I meglio meglio c'è io lo cuglia, ma si arreverte tutta la compagnia. All'organetto Bruno Morabito, Totò Suraci, Maurizio Caserta, Gesuele Martino e Saveri Fatia. Odambureddo, Gaetano Falzea e Nino Saraga. Attaccamo! E' che pelucano! Angrazziamo a sto bello sanatore, che ne rito qui e portavo! A presto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.